Ciao, sono Giovanni Villani di Letture Metropolitane. Il video che hai scelto sta per iniziare, ma prima ti invito a iscriverti a questo canale, attivare se vuoi la campanella, ma soprattutto a farci sapere nei commenti quale talk puoi vedere prossimamente, in modo da poterlo montare e pubblicare nel più breve tempo possibile. Puoi scegliere tra i 18 incontri di questa decima edizione. Inoltre, trovi già moltissimi panel Lectio Magistralis delle passate edizioni. Ti auguro una buona visione. Ciao! Buongiorno a tutti, benvenuti! Questo è il primo talk di Arf Festival e come tradizione ogni anno il primo talk è rivolto ai più giovani, nel senso che ci interessa molto, come Arf, parlare a un pubblico che spesso viene quasi sottovalutato dal pubblico delle sale talk, perché di solito nelle sale talk o si parla dei libri degli autori, oppure si parla di tematiche che sembrano quasi respingenti verso una fascia di pubblico che va dai 14 ai 20 anni. Invece, secondo noi, questa parte di pubblico, di persone, di lettori, di appassionati di fumetti, di cartoni animati, di videogiochi, di influencer, creator, youtuber, è un pubblico molto importante perché è attentissimo a quello che legge, ma soprattutto si trova in un momento della propria vita in cui vive situazioni contrastanti, sensazioni contrastanti e cerca di trovare il proprio posto nel mondo. I fumetti possono aiutare in questo. Quante volte guardando un anime o leggendo un fumetto avete pensato questa cosa la penso pure io, oppure questa cosa mi vergogno di dirla, oppure quante volte vi siete arrabbiati per qualcosa che avete tenuto dentro di voi, ecco, magari già lo sapete o magari non lo sapete ancora, però molto spesso esistono autori di fumetti che parlano proprio di queste cose nelle loro storie e a volte queste storie diventano quasi una mano tesa per dire oh, vedi che non sei sbagliato te, guarda io la penso nello stesso modo. Allora, per inaugurare questo talk abbiamo deciso di coinvolgere due autori che hanno fatto proprio della loro carriera questa missione, cioè quella di raccontare storie che partono da loro, ma sono una sorta di ponti proprio verso queste sensazioni e verso questi stati d'animo, per capirsi, appunto come abbiamo scritto, per conoscersi, rispettarsi e ribellarsi. Allora, io vi chiedo un grande applauso per Rita Petruccioli e Jacopo Camagni. Benvenuti, sedetevi, sedetevi lì, sì, io sto su questo più laterale, ben arrivati. Allora, vi dico intanto una cosa, intanto, regia, ma questa luce che mi uccide e non mi fa vedere nessuno. È manovrabile in qualche modo? Quella lì? Ah, ecco, meglio, ciao, mica avevo visto che eravate arrivati. Allora, all'ARFA abbiamo una regola, se avete delle domande mentre stiamo parlando, alzate la mano e attirate la nostra attenzione, non le facciamo fare alla fine, perché a volte vi vengono delle domande che poi 20 minuti dopo magari non volete più fare. Se quello che diciamo vi suscita delle cose, alzate la mano. Allora, abbiamo qua Rita e Jacopo. Magari voi dite, io non li conosco, potrebbe succedere. Allora, vi dico che Rita Petruccioli è un'artista incredibile, una fumettista, un'illustratrice, ha pubblicato graphic novel molto personali, ha pubblicato, lavora su delle riviste importantissime come può essere internazionale, soprattutto nella sottoversione per bambini, che è internazionale kids, che ha una qualità altissima, ha esposto alla biennale, quindi insomma stiamo parlando di un'autrice che è una sorta di punto di riferimento nel fumetto italiano e in più ha tutto un suo percorso personale come illustratrice, oppure all'interno di contesti di militanza, politica, con cui lei riesce con la sua arte a esprimere se stessa e il fumetto. Rita, come è iniziato, siccome magari tra di loro ci sono tante persone, ci sono tante piccole Rita Petruccioli, come è iniziato tu a voler fare fumetti ma a capire che con i fumetti potevi esprimere tutti i mondi che avevi dentro, che sono diversi e spesso tumultuosi. Allora, intanto grazie Mauro e grazie a tutti e tutti voi che siete qui ad ascoltarci. Allora, io non so se sperare che ci sono tante Rita Petruccioli in mezzo a voi, spero che ci sia di molto meglio che delle Rita Petruccioli, però diciamo che io ho sempre disegnato fin da quando ero piccola e ho sempre un po' sognato di fare fumetti per poi rinnegarlo a un certo punto della mia vita e fare tutti quanti altri percorsi, tipo ad esempio liceo classico e accademia di belle arti, che mi hanno portato verso altre vie che consideravo più alte rispetto rispetto al fumetto e poi in un certo momento mentre facevo l'accademia di belle arti in cui sono entrata profondamente in crisi con me stessa e non capivo che cosa stavo facendo perché lo stavo facendo, mi è tornato fortissimo l'esigenza di esprimermi raccontando delle storie e quindi mi sono rivolta prima all'illustrazione e poi qualche anno dopo ai fumetti che comunque avevo sempre letto. Quindi diciamo che il fumetto e l'illustrazione per me sono il mio canale espressivo, quello che mi permette di tirare fuori i miei sentimenti, le mie emozioni, i miei stati d'animo e di raccontare quello che mi circonda. Mano a mano che lavoravo sui libri ho cominciato a capire che potevo dare di più, potevo fare qualcosa di più per chi mi leggeva e perché mi leggevano allo stesso tempo bambini e bambine perché facevo libri per una fascia di età fra gli 8 e gli 11 anni più o meno e poi quando ho cominciato a fare fumetti le fasce di età si sono alzate e poi a un certo punto mi sono imbattuta o forse l'ho cercata in un posto che è la casa delle donne Lucia e Siesta che è un luogo speciale a Roma dove si fa un lavoro di autodeterminazione, di empowerment delle donne è una casa rifugio, un luogo dove si dà ascolto alle donne, alle persone che hanno subito violenza e che intraprendono un percorso per uscire dalla violenza e ho cominciato a lavorare con loro e ho cominciato a lavorare con loro non facendo l'operatrice ma prestando le mie immagini cioè cominciando a fare la loro comunicazione e mano a mano ho capito che con il nostro lavoro possiamo creare un immaginario, possiamo dare degli strumenti per raccontare cose che non sono ancora state raccontate dare strumenti per capire ad esempio come chiedere aiuto nel momento in cui si pensa di essere all'interno di una situazione di violenza come trovare attraverso le storie gli strumenti per uscire da questi percorsi e poi mano a mano se ne sono aggiunti vari altri che affronteremo durante questo talk invece Jacopo tu hai cominciato a fare fumetti un po' di anni fa esordendo praticamente su Mondo Naif voi dovete sapere che una volta i fumetti in Italia erano principalmente quelli cosiddetti di evasione forse avete visto pure i vostri genitori leggere Tex di Landog forse li leggete anche voi comunque i fumetti dove tu ti perdevi in avventure ambientate nel West o in mondi lontanissimi a un certo punto invece una serie di autori hanno detto però i fumetti possono parlare anche del mondo vero cioè dei sentimenti che noi proviamo e della vita che viviamo che oggi sembra una cosa scontata sono sicuro che tutti conoscete i fumetti di Zero Calcare e tante volte avete pensato a questa cosa l'ho vissuta anche io o l'ho pensata anche io una volta non era così comune trovarli e Jacopo è stato uno dei primi in Italia a lavorare proprio su questo tipo di narrazione poi dopo la sua carriera ha preso mille strade e pur continuando a raccontare questo tipo di fumetti Jacopo è arrivato alla Marvel dove ha disegnato Deadpool che magari conoscete tutti gli X-Men pubblica delle sue storie, dei suoi graphic novel in compagnia di altri sceneggiatori come Marco Bucci per esempio e attualmente è appena uscito Simulacri per Bonelli ma c'è tutta la saga di Nomen Omen insomma mille cose pubblicate negli anni lavoro sugli X-Men eccetera però ti voglio proprio chiedere anche a te come hai iniziato a fare fumetti che potrebbe essere anche per loro uno spunto e soprattutto se dall'inizio volevi proprio visto che hai esordito su un mondo naif proprio raccontare un tipo di fumetto che magari in Italia in quel momento non si faceva ma che era più vicino alla vita che vivevi allora ciao a tutti e sì innanzitutto come dice Mauro da quello che ha detto Mauro potete capire che sono abbastanza vecchio nel senso che ho un'esagerazione di robe fatte ma perché ho una certa età la serie di mondo naif a cui fa riferimento Mauro effettivamente è di fine anni 90 e io lì avevo grosso modo 20 anni 18-20 anni ed è stato il mio esordio come disegnatore io sono di Bologna anche se adesso vivo a Roma e la casa editrice che pubblicava Mondo Naif effettivamente era una casa editrice di Bologna e io sono entrato in contatto con loro perché all'epoca ancora non esistevano scuole di fumetto come invece per fortuna ci sono adesso quindi io da mero disegnatore del liceo artistico avevo la passione per il fumetto e per il disegno animato e ho partecipato banalmente a un concorso che c'era a Bologna che si chiamava l'arena del fumetto e il caso vuole che la giuria fosse composta dagli editori nonché proprietari della casa editrice ho vinto e mi hanno offerto la possibilità di entrare nel team dei loro disegnatori che all'epoca vantava nomi che sono diventati poi esageratamente famosi nel campo italiano come Vanna Vinci Andrea Cardi Otto Gabos Sara Colaone devo dire che sono cresciuto tra persone tra azionatori di un certo livello è stato molto bello perché oltretutto erano anni diversi Bologna era il centro del fumetto praticamente all'epoca ed eravamo molto diciamo eravamo una famiglia e questa cosa si rispecchiava nelle storie che andavamo a raccontare perché come diceva Mauro all'epoca il fumetto principalmente era o il fumetto italiano era fumetto d'avventura d'evasione oppure semplicemente veniva pubblicato quanto diciamo realizzato negli Stati Uniti quindi supereroi il fumetto invece della Capedizioni era un esperimento da parte loro perché loro sono stati i proprietari della Capedizioni erano i K-Boys che sono stati quelli che hanno importato il manga in Italia all'epoca e avevano già quest'occhio abbastanza lungo a livello di scelte editoriali ed effettivamente quello che abbiamo raccontato noi era un precursore del modo di raccontare che adesso è contemporaneo ma all'epoca era prettamente giapponese quindi storie di vita quotidiana ambientate in una realtà che conosciamo ovviamente non era Tokyo ma all'epoca era Bologna quindi tutte le nostre storie erano praticamente tutte ambientate a Bologna ed erano tutte storie di ragazzi giovani che potevano avere la mia età o l'età degli altri disegnatori la cosa interessante era che raccontavano sentimenti raccontavano problematiche che potevano accomunare tutti quindi una storia d'amore una storia di lutto problemi familiari ripeto, adesso sembra scontato all'epoca era praticamente una novità è stato molto importante e a livello formativo per me perché non ero un gran lettore di comics leggevo molto bonelliano all'epoca quando ero piccolo e questa cosa mi ha permesso di esplorare tutta una realtà che mi era sconosciuta e diciamo di vedere il potenziale del raccontare effettivamente delle emozioni dei sentimenti delle cose che ci accomunano tutti e ho cercato sicuro di mantenere di fare mio quell'esperienza e di portarla in tutto quello che ho fatto dopo tanto che è una cosa che sono contento che mi venga riconosciuto dagli editor con cui ho lavorato negli anni successivi e tuttora nonostante siano fumetti americani quindi diciamo lontani anni luce da quello che potrebbe essere un fumetto di sentimento di calma di attimi di momenti è proprio il fatto di riuscire a raccontare le emozioni dei personaggi cosa che mi dicono gli editori normalmente non tutti i disegnatori riescono e questa è una cosa secondo me molto importante perché avvicina il lettore al personaggio alla storia lo fa entrare dentro e sicuramente in tutti i lavori che ho fatto dopo anche quelli personali la parte emotiva è la parte dominante per quanto per quello che voglio raccontare mi interessa poco raccontare di la lazione la storia che succede mi piace di più raccontare quello che provano i personaggi o comunque cercare di trasmetterlo ecco nonostante sia magari un fumetto fantasy o un fumetto horror il focus secondo me sono i personaggi prima di quello che gli accade attorno ecco tra di voi può alzare la mano chi legge fumetti o chi ha letto fumetti ok beh siete abbastanza e chi tra di voi invece disegna anche solo per suo diletto cioè che sta lì e si diverte a disegnare quanti invece amano studiare storia bene sono sorpreso di vedere delle mani alzate molto bene no vi ho fatto questa domanda perché ora vi interrogo sul rinascimento no no però interrogo Rita sul rinascimento perché vi racconto una cosa Rita sta ottenendo un grande successo con un fumetto dedicato a Isabella d'Este una delle figure più importanti del rinascimento legate alla scena artistica eccetera e quando uno pensa a un fumetto dedicato a un personaggio rinascimentale magari si fa nella sua testa subito l'idea di un fumetto storico magari bellissimo però già connotandolo con determinate caratteristiche regia puoi mandare le tavole di Rita di Isa perché invece Isa insieme a Lorenzo Ghetti lo sceneggiatore ha dato un approccio a questo personaggio veramente imprevedibile e lo ha modernizzato tantissimo insieme allo sceneggiatore Lorenzo Ghetti riempiendo questo personaggio di tematiche contemporaneissime ci racconti un po' che cos'è questo progetto allora sì grazie Isa sarebbe Isabella d'Este anche nota come la prima donna del rinascimento italiano titolo che probabilmente si è data da sola per farvi capire quanto Isabella d'Este fosse un personaggio che non solo stava nel suo tempo ma voleva stare anche più avanti nel tempo ed essere come dire immortale ricordata per sempre e infatti noi oggi siamo qui a fare un fumetto su Isabella d'Este io e Lorenzo Ghetti che non è soltanto un fumetto cartaceo pubblicato da Rulz ma è un progetto più ampio nato sul web le cui storie potete leggere anche su Instagram alla pagina Isa Vince Tutto sul profilo Isa Vince Tutto che è un progetto nato da Palazzo Ducale di Mantua che è un museo meraviglioso che si trova a Mantua che è appunto anche il castello dove abitava Isabella d'Este Marchese di Mantua perché sposata con Francesco Gonzaga e questo progetto nasce come proseguo di fumetti nei musei che è già un progetto bellissimo fatto dal Ministero dei Beni Culturali italiano insieme a Coconino in cui ogni museo italiano ha avuto un disegnatore una disegnatrice a realizzare una storia a fumetti questo ha fatto sì che noi avessimo carta bianca per raccontare un museo un luogo attraverso la protagonista di questo luogo ovvero la Marchesa una Marchesa che non voleva soltanto essere la moglie del Marchese ma che aveva voglia di plasmare tutto ciò che la circondava come lei decideva perché sapeva di non poter comandare per una palese condizione di genere che se ce l'abbiamo oggi una come dire una disuguaglianza di genere immaginatevi nel rinascimento che cosa poteva esistere era consapevole di non poter comandare ma sapeva di poter agire la propria influenza tramite il controllo sull'arte e sulla creatività e quindi Isabella Dess è una donna che ha voluto avere i più grandi artisti a corte ha lavorato con Mantegna ha provato in ogni modo a lavorare con Leonardo da Vinci e in più ha diciamo comandato ha regolato tutto quanto ciò che veniva prodotto all'interno del palazzo Ducale secondo dei principi di design che davano diciamo una visione totalmente avanti nel tempo quindi possiamo dire che Isabella Dess era un influencer ante Litteram e questa cosa noi l'abbiamo pensata di raccontare dotando Isabella Dess di una serie di strumenti contemporanei tipo ad esempio il cellulare oppure ascolta la musica con le cuffie al computer parla con un linguaggio contemporaneo mentre invece tutti quanti gli altri personaggi del fumetto sono esattamente nel rinascimento e cercano di adeguarsi a quelli che sono i modi di Isabella Dess questo mix di elementi crea al contempo un racconto esatto della storia ovvero di ciò che veramente è stata la vita di Isabella Dess e le vicende del rinascimento ma senza avvalersi di date o troppi dati storici ma semplicemente prendendo il reale meccanismo fra i personaggi e gli eventi che coinvolgeva Isabella Dess e trasformandolo in gag e quindi questo fumetto riesce ad essere al contempo divertente e storico e ha un formato molto breve e in contemporanea riesce a raccontare qualcosa sulla condizione della donna nel rinascimento senza passare per la pesantezza che ad esempio sto utilizzando io mentre vi parlo perché parlare di queste cose è molto più difficile che poi in effetti raccontarle di dire le donne all'epoca non potevano fare questo o quello ma semplicemente mette nel dato di fatto e mette nel dato di fatto e nella gag che si basa su questa cosa con una personaggia che non è per niente femminista non so come dirlo altrimenti cioè è una donna che vuole il potere lo pretende ha ragione di pretenderlo ma lo vuole esclusivamente per se stessa quindi non è un personaggio buono ma è un personaggio che svolge esattamente quella funzione di rompente che serve per raccontare questa condizione senti però una storia del genere permette anche di mettere sotto una certa luce quelle che possono essere le strutture attuali del ruolo della donna nella società contemporanea cioè di quello che può o non può fare oggi di quello che sembra assurdo che in alcuni ambiti non abbia ancora conquistato o in quello in cui fatica a conquistare purtroppo sì diciamo di sì in realtà quello che si è generato con Isa è che il pubblico si è totalmente appassionato al personaggio e ha capito il personaggio quindi si identifica in lei e quando ad esempio Isabella Dess a un certo punto ha una bambina dato storico Isabella Dess ha una figlia e le erode da morire che questa figlia sia femmina perché l'obiettivo di Isabella Dess è avere il potere e quindi per avere il potere gli serve di manipolare un figlio maschio ovviamente parliamo di una cosa orribile non si fa però all'epoca lo strumento era quello ora raccontare una storia del genere che ufficialmente è politicamente scorretto se vogliamo utilizzare una parola che va molto che va molto e in realtà il nostro pubblico ha capito perfettamente questo meccanismo e quindi si è creata una fanbase della figlia di Isabella e quindi ogni volta che c'è un episodio in cui la figlia di Isabella viene trattata male e ce ne sono diversi c'è proprio il team che difende la figlia e questa cosa è esattamente il meccanismo per cui io non ho bisogno di spiegare cos'è la contemporaneità e cosa necessario nella contemporaneità io e Lorenzo Chetti generiamo quel cortocircuito di affezione di affetto per i personaggi che fa sì che tu hai bisogno della contemporaneità in quel fumetto perché Isabella adesso al cellulare ti sta dicendo che può essere contemporanea e quindi il meccanismo funziona così Jacopo nei tuoi fumetti nei progetti a cui hai lavorato c'è sempre anche una grande attenzione visto che si parla di tematiche tra virgolette contemporanee a tutta la tematica LGBTQI plus ho detto bene tutto e quindi ti volevo chiedere come riuscire a veicolare queste tematiche all'interno del fumetto perché in un modo o nell'altro tu ci riesci tanto nel fumetto inteso come indie quanto anche nel mainstream e quanto è cambiato nel tempo visto che insomma hai raccontato che lavori da secoli quanto è cambiato nel tempo l'approccio a queste tematiche? Allora diciamo che è cambiato tantissimo io facendo parte della comunità LGBTQI e mi fermo qua perché poi altrimenti non sono aggiornato su fin dove devo arrivare vengo da appunto da una generazione precedente a quella vengo da una generazione dove non c'erano praticamente riferimenti a livello di comics non c'erano c'erano soltanto grandi classici a livello letterario c'erano pochissimi film disponibili che trattassero l'argomento e sistematicamente tutti lo trattavano in maniera drammatica e con finali terrificanti e diciamo veramente 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 tristi mi sono fin da ragazzino mi sono sempre ripromesso di raccontare che se avessi raccontato delle storie tematiche l'avrei fatto cercando di raccontare la parte positiva la parte bella la parte solare la parte normale la parte che può essere legata a qualunque persona e negli anni ho avuto svariate volte le occasioni di confrontarmi col tema io ho fatto parte di associazionismo a Bologna per anni ho gestito il giornale del Cassor per una vita ho realizzato grafiche illustrazioni per loro proprio per aiutare la comunità a fare quel salto la comunità bolognese quel salto a livello comunicativo che facesse uscire appunto la ghettizzazione drama che la contraddistingueva a livello pubblico con qualcosa di un po' più pop solare negli anni appunto lavorando su progetti miei ma anche su progetti legati a diciamo partner grossi come la Marvel o Bonelli ho avuto la possibilità di fare quello che volevo fare da sempre ovvero evitare di raccontare storie prettamente di coming out o di diciamo tematizzate al 100% ma di inserire nella quotidianità dei personaggi delle storie che andavo a raccontare personaggi queer facenti parte della comunità LGBT in maniera totalmente normale quindi come potrebbe essere il tuo vicino di casa tuo fratello la tua amica del cuore la tua fornaia eccetera quindi dare una dimensione di quotidianità di normalità alle alle storie ovvero rendere il quello che fino a questo momento fino a quel momento vi vedevo era trattato come con uno spotlight su una storia positiva o una storia negativa trasmetterlo e far capire alle persone che fa parte della vita di tutti che è quello che si dice sempre che chiunque ha un contatto nella sua cerchia almeno un contatto che fa parte dell'ambiente quindi se riusciamo a rendere questa cosa integrata tutto il resto sicuramente è un passo in più che facciamo verso la comunità quindi nelle mie storie come Nomenomen ho inserito una coppia di madri lesbiche la la cugina della protagonista una storia poliamorosa è il migliore amico della protagonista è gay la protagonista stessa è asessuale nel senso che abbiamo cercato di trattare in maniera molto normale senza raccontare una storia che parla solo di quello la storia è un fantasy parla di altro parla di stregoneria però al contempo caratterizzare i personaggi in modo che chiunque leggesse il nostro il nostro lavoro mio di Marco Bucci potesse avere un personaggio nel quale bene o male ritrovarsi anche in piccola parte questo per noi era molto importante ed è questo che intendo con il concetto di normalizzazione cioè di rendere una cosa come può essere semplicemente o il personaggio che è allergico ai cereali o il personaggio che vive una coppia poliamorosa ma fa parte delle sue tre caratteristiche di scheda e non sto raccontando una storia che parla esclusivamente del fatto che sono entrato in un rapporto che sono due mamme lesbiche o che è la nostra protagonista sessuale o altre cose di questo tipo insomma quindi la quotidianità che è la nostra vita di tutti immagino che è un po' appunto il filo comune che stiamo raccontando tra i tuoi sordi tra il raccontare Isabella Deste con elementi contemporanei e questa cosa che è giunto adesso e proprio parlando di contemporaneità e quotidianità Turida esordisci nel mondo del graphic novel con una graphic novel pubblicata da Bao scritta da Giovanni Masi che si chiama Frantumi che salutiamo Giovanni Masi ciao Gio fate un applauso a Giovanni Masi perché è bellissimo e poi ne hai pubblicata una seconda questa volta tutta scritta e disegnata da te che si chiama Ti chiamo domani ora in entrambe le graphic novel hai toccato tematiche abbastanza importanti quotidiane ma trattate poco nel senso in una trattate poco nella narrativa concepita come devasione di solito la gente dice i fumetti sono leggeri nel primo la malattia e il convivere con una persona con una malattia e nel secondo si è andata a toccare uno degli stereotipi più duri a morire del nostro mondo cioè la sacralità di alcune istituzioni come quella la sacralità della coppia in cui lì sei al sicuro e invece devi stare attenta quando incontri gli sconosciuti e invece e quindi sei naturalmente attenta già distinto quando incontri uno sconosciuto e invece magari il problema a volte è proprio nella coppia cioè lì dove ti senti più tranquilla e invece la salvezza può arrivare proprio da uno sconosciuto cioè sono tematiche che a dirle fanno venire i brividi per quanto sembrano complesse da affrontare ma paradossalmente sono molto più vicine di quelle che spesso trovi nei fumetti perché io credo che difficilmente qualcuno di loro avrà a che fare con degli zombie però probabilmente potrebbe avere a che fare con una relazione tossica o con situazioni complicate da gestire come le hai affrontate tu in questi lavori qui intanto vediamo delle tavole sì ti chiamo domani diciamo che i due lavori il primo Frantumi l'ho affrontato grazie a Giovanni che è lo sceneggiatore appunto Giovanni Masi e che ha fatto da filtro su tutte quante le riflessioni che potevo avere su un'esperienza che mi apparteneva poco e che però ho cercato ho cercato di comprendere e di tradurre quanto al meglio possibile spero che ci siamo riusciti Giovanni mentre invece su ti chiamo domani passavo a un racconto più personale attraverso un'esperienza che non era la mia ma che aveva tante caratteristiche che erano vicine al mio vissuto e questo mi ha permesso di muovermi in un'altra maniera e ti chiamo domani manualmente parla di una ragazza che si trova in Erasmus e che a un certo punto decide di andarsene via dal giorno alla notte e decide di tornare a casa prendendo il passaggio di un camionista e all'interno del libro tutto quanto fa pensare che il problema di questa ragazza va scoperto ma che comunque non sia una buona idea fare un viaggio con un camionista e quindi diciamo gioca con un senso di pericolo che noi abbiamo a prescindere verso la persona sconosciuta mano a mano che il fumetto si sviluppa gli interrogativi invece vengono sulla coppia all'interno della quale si trova la protagonista e diciamo senza che spoiler o racconto troppe cose del fumetto è un fumetto che racconta la nascita di una situazione di dialogo che al contempo è un dialogo con una persona sconosciuta e al contempo è un dialogo con se stessi perché l'obiettivo più grande e la cosa più grande che in effetti ho cercato di dare all'interno di questo fumetto è la possibilità di capirsi e l'importanza di capirsi di ascoltarsi di ascoltare anche tutte quante quelle piccole sfumature che ci raccontiamo soprattutto all'interno della coppia e che poi per senso comune decidiamo di non ascoltare perché comunque la coppia è importante perché comunque mi ha detto che mi ama e tutte quante cose cose del genere oggi c'è una grande comunicazione su tutti quanti questi argomenti e penso che non sia mai abbastanza e penso che le storie che siano fumetti che siano canzoni che siano film tutto ciò che è pop ha una grande possibilità che è quella di dirci delle cose importanti mentre ci intrattiene e proprio perché i personaggi sono importanti i sentimenti dei personaggi come diceva Jacopo prima e noi abbiamo la possibilità di rispecchiarci in quei sentimenti e magari di fare una riflessione e dire io avrei agito in un'altra maniera e va bene oppure io ho provato la stessa emozione e forse avrei potuto fare così e anche quello va bene funziona un po' come uno specchio e secondo me un fumetto un'opera in generale riesce cioè fa il suo compito quando ci dà degli spunti di riflessione ci fa fare delle domande e non quando ci dà delle risposte e ci dice come devono andare le cose sai quello che dici secondo me è altissimo perché tocca uno dei punti nevralgici della narrazione della scrittura cioè la domanda ma perché noi leggiamo cioè perché guardiamo queste storie vi siete mai chiesti se metteste in fila tutto il tempo che avete passato a vedere film a vedere cartoni animati a vedere a giocare videogiochi a vedere video cioè perché questa è una cosa insida nell'uomo farsi raccontare le storie e Aristotele si chiedeva perché ci piace farci raccontare le storie e raccontare storie la risposta che lui si dava era per capire come va condotta la vita perché in un modo o nell'altro quello che diceva Rita quando tu vedi leggi una storia e vedi le azioni che compie un personaggio dentro di te ti chiedi in continuazione che farei io al suo posto e guardi cosa fa lui e quindi puoi dire ah lui fa meglio di come avrei fatto io oppure fa peggio di come avrei fatto io perché avrei fatto questa cosa ma entrambe confluiscono nella stessa cosa del capire come affrontare gli ostacoli che ci mette davanti la vita e comunque volenti o nolenti anche come essere persone migliori cioè come risolverle al meglio e sopravvivere e ogni bravo autore che racconta anche se non non la esplicita questa cosa alla fine ci passa questo messaggio e Jacopo nelle nelle tue storie ora chiaramente hai parlato dei personaggi quindi è ancora più evidente questa cosa vista la tua attenzione per i personaggi spesso c'è anche una rappresentazione fisica che va oltre il classico stereotipo nel senso che molte volte c'è il belloccio da una parte e la belloccia dall'altra invece spesso nel tuo fumetto ci sono anche diverse fisicità non conformi addirittura in simulacri voi fate vedere tranquillamente quello che può sembrare assolutamente la norma ma voi considerate che a volte mi è stato bocciato in ambito cinema perché mi dicevano è troppo fastidioso da vedere cioè dentro simulacri loro raccontano la storia di un gruppo di amici e una di queste persone è una ragazza che ha una protesi metallica una gamba una ragazza inserita perfettamente nel loro contesto che fa la sua vita però è qualcosa che se ci pensate quante volte avete visto in una storia raramente e quindi ti volevo chiedere questo lavoro sulla figura insegue questo discorso che mi dicevi di normalizzazione come lavori sul creare i corpi allora banalmente ti potrei dire che è un discorso di inclusività nel senso che chiunque si vuole sentire rappresentato quando legge qualcosa perché è importantissimo quando una persona apre un libro apre un fumetto accende un programma vede un film trovare qualcuno che nel quale identificarsi in modo da sentirsi diciamo all'interno della storia che sta guardando o leggendo quindi banalmente ti potrei dire è un discorso di inclusività e di rappresentazione più nello specifico invece ti dico che mi piace esplorare mi piace raccontare i personaggi non sono soltanto non raccontano soltanto a livello diciamo con le parole chi sono ma raccontano tantissimo con il corpo il corpo racconta tanto di noi è una mappa praticamente di quello che siamo stati di quello che siamo e molte volte se lo sapemo leggere anche di quello che saremo quindi quando si crea un personaggio quando io creo un personaggio la parte estetica è molto importante dal mio punto di vista perché ti racconta chi è quello che hai davanti anche se sta zitto banalmente quindi le espressioni la fisicità è parte integrante della della narrazione la differenza di corpi la differenza di 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 aspetto dei personaggi è secondo me la base è importantissima siamo sempre stati io sono cresciuto con un panorama di personaggi stereotipati quindi con le donne con i seni giganteschi i fianchi enormi gli uomini con i pettorali ipertrofici erano quelli i personaggi che leggevo quando ero bambino non mi riconoscevo perché sono secco sono magro sono basso e ho sempre avuto questa barriera non soltanto per le storie che andavo a leggere ma proprio perché non mi riconoscevo in qualcosa quindi per me è stato importantissimo anche assieme a Marco Bucci col quale lavoro veramente ormai da più di vent'anni lo sceneggiatore cercare di raccontare personaggi che potessero comunicare al più ampio spettro di lettori possibile e questo vuol dire anche appunto avere corpi differenti fisicità diverse sessualità differenti disabilità per alcuni al giorno d'oggi può sembrare una come dire una cosa da volete siete i bonisti che vogliono inserire tutto quello che c'è invece no secondo me è importante che chiunque abbia modo di trovare un di rispecchiarsi in una storia che sta leggendo spero nel migliore modo possibile perché ti fa sentire parte di una comunità e non escluso nel momento in cui tu non vieni identificato all'interno di qualcosa non vieni rappresentato è come se non esistessi e quindi è importantissimo secondo me cercare di dare più spazio possibile più rappresentazione possibile alla varietà umana che c'è anche perché la varietà è bella è bello essere diversi l'uno dall'altro non tutti uguali ma infatti io credo poi che per un artista sia estremamente più stimolante giocare con queste figure invece di dove disegna sempre la stessa cosa se uno ci pensa mi hai fatto sorridere prima quando hai detto oggi saremo bonisti ma se uno guarda i quadri di Caravaggio in cui metteva 20 personaggi 30 personaggi e te li andavi a vedere bene ognuno era diverso dall'altro e quindi c'era c'erano un sacco di quelle che oggi verrebbero definite figure non conformi e tu dici ma conformi da quando ma vedete che è conforme da uno standard che è degli ultimi 50, 60, 70 anni a me rimane mi rimase molto impresso appunto quando lavoravo in cappedizioni che ero molto giovane all'epoca quando ero giovane disegnavo tutti i bellocci tutti fighi perché venivo da quello e ancora non avevo maturato questa importanza al personale e mi fece molto ridere un commento che mi fece Vanna Vinci una sera che eravamo fuori a cena che mi disse sai Jacopo il personaggio che preferisco della storia che hai fatto ma la imiti perfettamente Vanna mi ha mangiato tante e mi disse che il personaggio preferito di una storia che avevo fatto era una vecchia ma perché brutta a me piace disegnare personaggi brutti mi disse perché sono quelli quelli più interessanti quelli fighi tutti sono bravi disegnare personaggi fighi alla fine invece quelli brutti sono quelli più belli quelli più particolari e questa cosa mi rimase impressa per tantissimo tempo sono assolutamente d'accordo certo in realtà vi collego due cose che avete detto prima se posso non è che siamo obbligati a mettere il personaggio o la personaggia con la disabilità il personaggio o la personaggia con gusti sessuali o identità però la questione è che esiste una consapevolezza che è quella che attualmente ci sono delle categorie che non sono rappresentate e questa non rappresentazione risulta un problema ma non è che risulta un problema perché poverine quelle categorie non sono rappresentate non è una questione di pietismo ma è una questione di ricchezza nostra di tutti di tutte e tutti che in realtà se guardiamo il mondo soltanto con un colore soltanto con il filtro di un colore probabilmente non stiamo guardando tutto quanto quello che c'è e tutte quante le storie che è possibile raccontare e quindi la questione non è soltanto una questione politica è una questione più alta creativa e non è un obbligo perché niente nella creatività è un obbligo e niente secondo me nella letteratura deve essere un obbligo nella creazione se voi la mattina e mi rivolgo a chi scrive disegna scriverà o qualunque altra cosa faccia nella vita avrete voglia di scrivere una storia che vi rappresenta e siete magari un maschio bianco etero e cis non è una colpa scrivere una storia che rappresenta una categoria già molto rappresentata la questione magari è domandarsi se sto rappresentando questa cosa perché il mondo che mi circonda mi propone soltanto storie che riguardano questo tipo di soggetto qui e quindi di nuovo per collegarmi a Mauro prima la questione nelle storie sono le domande che ci generano sia quando le scriviamo sia quando le leggiamo e quell'essere persone migliori che ci possono offrire le storie non è che essere persone migliori vuol dire essere buoni o essere il personaggio positivo magari è una storia horror splatter in cui muoiono tutti quanti eppure male è al diritto di esistere quella storia ma le domande che generano il lettore le domande che io che la scrivo che la disegno mi pongo sono quelle la ricchezza e la consapevolezza di quelle domande è la ricchezza più alta e quella che probabilmente ci farà più credere a scrivere storie migliori sono assolutamente d'accordo io vi chiedo un applauso per queste due persone c'è il tempo devo farti un'ultima domanda Rita veloce abbiamo parlato di tante cose che si possono rappresentare e raccontare col fumetto ce n'è una che abbiamo solo accennato all'inizio ma che terrei come cosa finale che è quello della militanza cioè dell'usare il fumetto per gridare la ricerca la richiesta dei propri diritti e quindi usarlo come uso una parola forte in questo momento che è uno strumento di guerra però una guerra per arrivare ad ottenere qualcosa di giusto potete mandare le immagini di Rita di Lucia e Siesta Rita tu sei alleata di Lucia e Siesta però la tua firma campeggia appunto in tantissime iniziative relative a Lucia e Siesta ma comunque anche in altre che sono per i diritti delle donne sei un'artista molto schierata da questo punto di vista ci racconti di come tutti loro possono avere la forza di utilizzare le matite le penne i colori per gridare quello che per rendere il mondo un posto migliore diciamola così allora domandina proprio sentite la mia voce in questo momento io ho la r moscia quando strillo si sente tantissimo sta r moscia quindi è molto meglio disegnare le cose perché non si sente la r moscia punto primo punto secondo e allora io penso che ognuno di noi può prendere parte attiva come dire alle battaglie a me piace la parola battaglia piuttosto che sono d'accordo è meglio piuttosto che guerra e amo la parola resistenza utilizzata nella maniera giusta e penso che ognuno di noi può fare qualcosa per le battaglie che gli stanno a cuore e quello che faccio io è aiutare nella comunicazione e cercare di rendere incisiva la comunicazione di determinate battaglie prima Jacopo raccontava quello che ha fatto per la rivista del Cassero e ha detto una parola che condivido totalmente e che per me è magica e questa parola è pop cioè rendere più pop quello che altrimenti sarebbe un contenuto molto pesante da far arrivare e che a volte rischia di cadere nel vittimismo e nel pietismo perché chi fa attivismo e quando parlo di attivismo non parlo di me che faccio i disegni ma parlo delle persone che tutti i giorni fanno picchetti o fanno comunicati o aiutano le persone e sono le persone che stanno in mare a fare i salvataggi tipo open arms o mediterranea parlo delle persone che fanno le operatrici antiviolenza come le donne della casa delle donne luci e siesta ma anche di tante altre realtà sul territorio italiano parlo di chi veramente ogni giorno cerca di dare il massimo e sono persone stanche sono persone che hanno una forza gigantesca ma che non hanno anche molto spesso il tempo di dire di raccontarsi e quindi secondo me chi sa raccontare che lo sappia fare scrivendo che lo sappia fare disegnando che lo sappia fare fotografando chi sa fare gli omini stecchi cioè non bisogna disegnare bene per fare questa cosa può aiutare perché queste persone hanno bisogno di essere raccontate hanno bisogno di essere aiutate a veicolare determinati contenuti e quindi secondo me il punto è non farlo in maniera autonoma cioè domani mattina non deve succedere che decidete di sposare una battaglia di cui non sapete niente o di cui pensate di sapere qualcosa parlate con questi attivisti andate dalle persone che stanno faticando appunto per cambiare il mondo in meglio e chiedetegli di che cosa hanno bisogno chiedetegli se può essere se è giusto il contenuto che pensavate di veicolare stabilite un dialogo e da quel dialogo riuscirete a capire che cosa potete effettivamente fare ragazzi io lo spero sinceramente quando io avevo l'età vostra non c'era possibilità di poter incontrare artisti e sentirli parlare in questo modo quindi io spero che tutti i colori e le sfumature che vi hanno raccontato e che vi hanno fatto vedere che si trovano nei fumetti ma che possono essere un vostro veicolo di espressione in qualche modo abbiano atticchito o lasciato un piccolo seme dentro di voi e speriamo che germoglierà nei prossimi anni un applauso a Rita Petruccioli a Jacopo Camagni grazie per aver inaugurato i talk di ARFA 2024 e grazie a voi per aver partecipato a questo talk grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.